Noi eravamo su un paese piccolo, Fontanelice, che è un paese di vitrofo a Limola. Noi eravamo a letto, figlioli, e sentimmo per la strada uno che chiamava, era il fratello di mia mamma che era anche lui a Faenza, e diceva venite fuori che è finita la guerra, è finita la guerra. Allora quando si è però così, tutti quanti cercavano di venire fuori dappertutto, la gente, c'era in piazza a Faenza, poco lontano al Duomo, che è un monumento non indifferente, con tutta una scalinata davanti, e vedemmo tante persone che venivano a passeggiare.